Nessuna delle carte geomorfologiche dell'Italia redatte nel 1963 e poi quelle successive dell'Abruzzo segnalava o segnala il rischio valanga nella zona dove invece una valanga spaventosa ha sepolto l'hotel Rigopiano. Il geologo terramano Leo Adamoli è stato tra i primi studiosi del luogo con risultati pubblicati nella sua tesi di laurea del 1971 all'Università di Bologna sulla geologia dei monti di Farindola. Anche per lui la valanga non era ipotizzabile e inoltre il terreno sul quale è stata costruita la struttura per quanto costituito da uno strato di detriti era solido. Sulle carte della regione Abruzzo non viene segnalato il rischio valanga nella zona dell'albergo di Rigopiano ma è giusto questo? Sì è giusto perché anche io l'ho verificato in oltre mezzo secolo e frequento quella zona iniziare dalla tesi di laurea inizi anni 70 e lì non ho mai assistito ai fenomeni valanghivi proprio in quella zona. Le carte fatte redigere dalla regione Abruzzo, per esempio la carta dell'Aquater e poi anche dal piano di assetto idrogeologico in quella zona non vengono indicati fenomeni valanghivi assolutamente, vengono invece indicati nelle zone limitrofe per esempio nella zona del Gravone, si trova poco prima lungo la strada di Rigopiano Castelli o anche poco più a sud ma proprio in quella zona non vengono indicati canali valanghivi o comunque fenomeni valanghivi. Ma è vero che questo albergo è stato costruito sui detriti di una valanga, di una vecchia valanga? No, in quella zona c'è un piccolo conoglio alluvionale che anch'io cartografiai ai tempi della tesi di laurea nel 71-72 un piccolo conoglio alluvionale, una copertura detritica come esistono ai piedi di tutte le montagne di tutto il mondo cioè ci sono colti detritiche, conoglio alluvionale o colti detritiche eccetera e lì la zona dell'albergo è situata proprio al confine, proprio sulla punta di questa piccola conoglio detritica Quindi secondo lei non si poteva assolutamente prevedere questa valanga? No, diciamo che questa valanga si è verificata in condizioni del tutto, come dire, imprevedibili perché c'era stato un lungo periodo in cui praticamente il manto nevoso non c'era assolutamente mi dicono anzi che poco prima dell'ultima nevicata in alcuni punti affiorava il manto erboso Secondo lei sarà ripensata la carta geomorfologica dell'Abruzzo? Ma io direi che a questo punto, siccome le condizioni atmosferiche, stiamo parlando di variazioni climatiche eccetera Noi abbiamo intanto, per quanto riguarda la piovosità, abbiamo a volte lunghi periodi di siccità e poi le cosiddette bombe d'acqua, improvvise bombe d'acqua e stanno creando un mare di danni fenomeni franosi dappertutto, colate detritiche eccetera eccetera cose che magari in passato si verificavano molto raramente e così anche quando riguarda le precipitazioni nevose quindi è chiaro che forse è opportuno individuare quelle zone dove potenzialmente si possono creare fenomeni varanghivi importanti e quindi diciamo tenerne maggiormente conto rispetto al passato Quello che è successo a Rigopiano per Adamoli è il risultato della più terribile concentrazione di coincidenze negative un manto nevoso di 4 metri che si è depositato in poche ore sul terreno erboso e subito dopo sollecitato da un forte terremoto troppo incredibile per poterlo prevedere